Italia 4 Israele 1 bravi 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 ragazzi bravissimi ragazzi bravissima Italia che vince questa partita con un bel risultato ampio che poteva essere più largo e quindi in ottica classifica ho visto che la Francia stava vincendo col Belgio al novantesimo se è finita così all'Italia nelle prossime due partite manca un solo punto per andare alla fase successiva alla final 8 quindi a novembre quando ci saranno le prossime due partite contro Belgio e Francia alla nostra nazionale mancherà un punto ora tutto quasi perfetto questa partita è stata tutto quasi perfetto per quanto mi riguarda perfetto quello che è successo in campo scusate però io aggiungo quasi perfetto perché c'è una cosa che mi dà altamente fastidio quando gioco alla nazionale cioè non è possibile non è possibile per quanto mi riguarda che quando gioca la nazionale si gioca da Roma in su è mai possibile che non si può giocare a sud di Roma cioè a sud di Roma si gioca una volta ogni morte di Papa da Roma in su quasi sempre tutte le partite o a Roma o a Milano o a Torino o a Reggio Emile stasera a Udine ora con tutto il rispetto stasera a Udine hai fatto 10.000 spettatori che lo stadio era semi vuoto se mi vuoi non ci stai finisci una a Brezza partita ma per dire sta partita se la facevi a Napoli se la facevi a Palermo e guarda che ti dico la facevi a Bari al San Nicola di Bari bellissimo stadio uno stadio storico tu a Bari non facevi meno di 30.000 spettatori 30.000 almeno ne facevi in quel di Bari e no si deve giocare sempre da Roma in su a me sta cosa mi fa fastidio siamo tutti italiani dalla punta della Sicilia alla punta di Val d'Aosta a Bolzano con le parti là ok quindi questo è un invito alla federazione di giocare dappertutto le partite dell'Italia grazie ora venendo a quello che è successo in campo una bellissima partita dell'Italia è chiaro che è chiaro che abbiamo giocato contro una squadretta perché l'Israele quello è una squadretta quattro partite zero punti e quindi questo già la dice lunga però dovevamo vincere lo abbiamo vinto lo abbiamo fatto con un bel risultato ampio e quindi mi va bene così ci va bene così soprattutto in ottica classifica è chiaro che la Nations League è una competizione minore quindi non è che ci frega più di te più di tanto però in ottica qualificazione mondiale è comunque importante perché ti dà la possibilità di essere testa di serie testa di serie poi nelle qualifiche nei gironi delle qualifiche e noi nei gironi delle qualifiche negli ultimi anni abbiamo avuto qualche difficoltà semplicemente non abbiamo fatti i campionati mondiali una cosa da poco quindi siccome negli ultimi anni siamo andati molto male a parte la parentesi dell'europeo con Mancini non ci possiamo permettere di snobbare nulla nemmeno la Nations League e nemmeno avversari minori come l'Israele quindi io questa partita me la prendo e sono contento per come abbiamo giocato anche perché anche stasera comunque abbiamo fatto un bel calcio a me l'Italia era piaciuta anche nei primi 38 minuti col Belgio poi è chiaro che l'espulsione di Pellegrini ha cambiato un po' l'andamento della partita e stasera l'Italia con un avversario nettamente inferiore ha comunque riproposto una bella prestazione facendo quattro gol insomma una vittoria bella rassicurante soprattutto bello l'azione che porta a gol di Frattesi cioè quello lì è proprio calcio lì è la bellezza del calcio ma la bellezza sta soprattutto nel cross di Di Marco che è al suo terzo assist consecutivo quindi praticamente giocare con Di Marco significa partire dall'1-0 ma poi la fattura dell'assist l'intelligenza di mettere la palla di prima non ad attaccare l'area al rimorchio perché ha visto già Frattesi che si era inserito quindi la grandezza di questo giocatore sempre più top player e per me è il quinto di sinistra più forte al mondo per me uno migliore di Di Marco ad interpretare quel ruolo non c'è nel modo più assoluto per me questa è un'ottima nazionale è un'ottima nazionale che ha trovato un buon attaccante Reteghi che non è un campione non è un fenomeno non è un fuoriclasse niente di tutto ciò però è un buon attaccante che fa le cose semplici fa le cose che sa fare e le fa bene ha trasformato il calcio di rigore esecuzione perfetta ha pulito tanti palloni viene incontro allarga il gioco insomma ha fatto la punta ha fatto quello che deve fare il centroavanti è una nazionale che secondo me ha un ottimo centrocampo con frattesi tonali che è tornato in grande spolvero ricordiamo che manca anche Barella quindi un centrocampo Barella frattesi tonali niente male senza contare Ricci insomma questo Ricci toglierlo dal campo non è facile è un gran bel giocatore in cabina di regia stasera devo dire non mi è piaciuto Fagioli tanto è vero che nell'intervallo è stato giustamente sostituito nel primo tempo ha perso diversi palloni di cui uno poteva essere molto pericoloso l'Ali Slaele poteva andare in vantaggio quindi centrocampo mi piace tanto la difesa che sta prendendo forma sempre di più Bastoni che nell'Italia gioca centrale di difesa Di Lorenzo dopo un anno di pausa sta tornando è tornato ad essere un giocatore di calcio grazie alla cura Conte poi insomma è una squadra che adesso ha un senso lo stesso Cambiaso a destra interpreta il ruolo bene fa le cose giuste con un piede educato anche lui non proprio a livello di Di Marco perché il sinistro di Di Marco è patrimonio dell'UNESCO però il destro di Cambiaso che sa usare bene anche il sinistro non è male nel modo più assoluto quindi secondo me è una buona Italia indipendente dall'avversario indipendentemente dall'avversario di stasera è una buona Italia che torna ad avere un senso torna ad essere un gruppo torna ad avere un gioco di squadra idee chiare quindi bene così bene così stiamo gettando le basi per una nuova Italia perché signori l'Italia non è una squadra di campioni non è una squadra di fuori classe fuori di dubbio ma non eravamo scarsi come all'europeo perché la squadra che abbiamo visto all'europeo non è l'Italia era un'altra squadra quella che stiamo vedendo adesso non è una squadra di fenomeni ma è una squadra che comunque sta dimostrando di saper giocare a calcio ed è una squadra che sta comandando un girone in cui ci sono Belgio e Francia due squadre che nel ranking stanno al di sopra dell'Italia quindi scusate se è poco detto ciò vi saluto buonanotte a tutti sempre forza Italia sempre forza azzurri archiviamo la sosta per le nazionali e ci avviciniamo piano piano di nuovo al campionato poi la Champions League eccetera eccetera un saluto a tutti forza Italia ciao